Tra i mercati più importanti per il vino italiano e in crescita c'è sicuramente quello della Russia dove dopo qualche anno di difficoltà legata non solo alle tendenze di mercato ma anche a questioni di portata geopolitica le cose sembrano riprendere a correre, sembrano tornare ad andare bene. Allora cosa sta succedendo su questo importante mercato? Il vino italiano è sicuramente il numero uno se consideriamo il mercato globale in Russia ma se guardiamo il mercato dei vini fermi l'Italia si piazza al secondo posto. I vini italiani dominano nel settore delle bollicine con il 70% del mercato e questa tipologia di vini cresce di più rispetto ai vini fermi. Questa è la situazione attuale. Quando parla di spumanti russi si parla di prosecco dominante come in tutti gli altri mercati o con altre tipologie? Mi riferisco anche ad altre categorie. Il vino più popolare continua ad essere l'Asti seguito dal prosecco e poi dal lambrusco. Lambrusco di fascia bassa, lambrusco dolce. Ci sono poi i vini dell'oltre po' pavese e vini che vengono semplicemente definiti in etichetta come vino spumante di qualità. Come sappiamo però il grosso della produzione italiana è fatta di vini fermi e allora in questo segmento come si sta muovendo il mercato? Vi darò l'idea di quelli che sono i nuovi trend in Russia. I vini della Borgogna sono diventati così cari che occorreva trovare un'alternativa. E visto che i russi sono interessati ai vini eleganti come per esempio i vini fatti con il Nebbiolo ma anche il Barolo è abbastanza caro le compagnie di import russe hanno trovato delle cantine del nord del Piemonte per far fronte a questa domanda. E lo stesso è successo con le cantine dell'Etna che pur essendo molto lontane dal Piemonte producono vini con lo stesso approccio stilistico. La maggior parte dei vini del Vulcano sono eleganti, legati al Terroir, ottimi vini insomma. Come in altri paesi del mondo è stata e continua ad essere importante il supporto della ristorazione italiana per il vino italiano. È così anche oggi in Russia? La cucina italiana come il vino è ancora la numero uno in Russia e i ristoranti italiani sono gli apripista per il vino italiano nel paese ma a dire il vero la popolarità della cucina italiana in Russia è in calo perché i russi stanno tentando di reinventare la loro cucina che è una cosa positiva perché per diversi decenni la cucina russa è stata praticamente dimenticata e ora dobbiamo riportarla in alto e questo è il segno della ricerca di un nuovo equilibrio. L'Italia è ancora la numero uno ma il predominio si sta leggermente ridimensionando. In chiusura però per approcciare un mercato importante ma che forse non si conosce così bene tre consigli pratici su qualche cosa da fare assolutamente e qualche comportamento assolutamente da evitare. Cominciamo dalle cose da evitare Proponete fin dall'inizio un prezzo giusto perché se trattate troppo sul prezzo gli importatori russi penseranno che non siete seri e poi le cantine italiane sono tantissime mentre gli importatori russi sono pochi e fanno presto a trovare un altro partner in Italia Il mercato russo saprà darvi tanto se sfruttate bene l'ottima posizione dalla quale parte l'Italia Per quanto riguarda le cose da fare dovete fare una buona impressione e con questo intendo dire che conta molto lo charme personale la qualità dei vini e il rapporto qualità prezzo e la chance più grande per entrare nel mercato russo l'hanno proprio le aziende che hanno un giusto mix di queste qualità in particolare lo charme personale del titolare della cantina e il rapporto qualità prezzo Quando siete in Russia concentratevi sugli eventi che organizzate in prima persona aiutano molto ad essere notati perché spesso eventi espositivi importanti non sortiscono gli effetti sperati Tra i mercati nuovi che si stanno affacciando sullo scenare del vino e aperti anche al vino italiano c'è anche quello della Polonia che andiamo a scoprire in termini di tendenze e di novità Cosa sta succedendo in Polonia quando si parla di vino italiano? Il mercato polacco è molto segmentato L'85% del mercato è coperto da vino che rientra nella fascia di prezzo fino ai 7,50 euro Ci sono i vini dei supermarket, i vini di fascia bassa il vino importato sfuso e imbottigliato in Polonia ma per quanto riguarda i fine wines il mercato italiano se la cava molto bene Dopo la caduta del comunismo il vino francese è stato importato in Polonia in grandi quantità ma si trattava di vino di bassissima qualità La gente lo beveva comunque perché in Polonia c'era il mito del vino francese Poi i polacchi hanno cominciato a viaggiare spesso la loro meta delle vacanze era l'Italia e le cose sono cambiate Ora il 50% dei fine wines importati in Polonia sono italiani Quando si parla di fine wine italiani immaginiamo si parla di denominazioni come il brunello, il barolo, l'ammarone È così o c'è anche altro? Sì, si parla di questi vini ma il vino più famoso sicuramente grazie alla sua storia è il Chianti Grazie alla sua storia è il Chianti, tutti conoscono i Chianti in Polonia mentre il brunello e l'ammarone non sono così conosciuti I vini italiani li conoscono soprattutto i polacchi che sono stati in vacanza in Italia e ognuno di loro dopo una vacanza di due settimane quando torna a casa dice di essere un esperto di vino italiano È buffo ma è così Ma uscendo dal Piemonte, dalla Toscana e dal Veneto da cinque anni a questa parte il vino più popolare in Polonia è sicuramente il Primitivo A dire il vero non so perché visto che i polacchi in vacanza non si spingono mai fino alla Puglia si fermano a Roma o al massimo arrivano a Napoli Come ripeto non so perché ma il Primitivo è uno dei vini che vende di più in questo momento in Polonia